TAMO tutto l'anno è un cartellone di eventi, iniziative, conferenze, concerti che hanno luogo e caratterizzano praticamente ogni giorno la vita di TAMO, il nostro museo dedicato al mosaico. TAMO è un museo fortemente innovativo, innovativo per allestimento, tiene insieme reperti archeologici di grande valore con applicazioni tecnologiche modernissime che aiutano il visitatore, soprattutto i più giovani, a leggere al meglio l'antico. TAMO è un museo in divenire che si arricchisce ogni anno di nuove acquisizioni, ma TAMO è anche un centro di produzione culturale nel quale, assieme alle associazioni culturali della città, agli intellettuali della nostra città, costruiamo eventi ed iniziative. Nei prossimi quattro mesi TAMO tutto l'anno offrirà, fra i molti avvenimenti, tre appuntamenti speciali da non perdere. Il primo è certamente TAMO Moda, la sfilata di creazioni originali della stilista Ravennata e Cristina Rocca, sfilata attraverso la quale raccogliamo fondi per restaurare alcune stelle di classiari del nostro antico porto che verranno messe in mostra al museo di classe. Il secondo appuntamento è sempre all'insegna dell'archeologia, l'allestimento permanente a TAMO della domus rinvenuta nei pressi del liceo classico non più tardi di due anni fa. Da ultimo avremo un appuntamento importante con i musei vaticani. TAMO tutto l'anno avrà quest'anno dei cronisti d'eccezione. Un gruppo di studenti del liceo classico Dante Alighieri di Ravenna, con il professor Telò, ha costruito un gruppo di lavoro che seguirà tutte le attività di TAMO, dandone conto dal punto di vista giornalistico, ma anche costruendo, proprio a partire dal punto di vista dei ragazzi, dei percorsi di visita speciale per altri ragazzi. Grazie. Grazie.